Lui alpini sempre attivi. Tutto pronto per la grande festa del fine settimana. Le penne nere sono sempre attive nel volontariato, nell'aiuto di chi ha bisogno, così come nella tutela della memoria. Nel fine settimana verranno ricordate due figure di spicco. Alberto Piero Pan, grande storico di Vicenza, ex capogruppo alpini di Monteberico, e Giuseppe Zanetti, scultore del Monumento delle Otto Aquile, che svetta sulla collina verde di fronte al santuario. Il Monumento delle Otto Aquile si trova sulla collinetta che c'è in Piazzale della Vittoria e gli Otto Aquile rappresentano i sette battaglioni di Vicenza, più il secondo reggimento artiglieria da montagna, che è stato il nostro nome. Domenica verranno celebrati i 70 anni dalla costruzione del Monumento, che risale al 1953 e il sessantesimo dalla costituzione del gruppo alpini Monteberico. Siamo un gruppo che collabora molto con la città, con la sezione, quindi abbiamo molto da fare. Poi siamo stati uno dei primi gruppi che ha aperto la protezione civile. Noi siamo tanti di noi, adesso sono andati avanti con l'età, come tutti, e siamo stati tra i primi che hanno fatto la protezione logistica. Nel gruppo alpini Monteberico si contano 92 penne nere e 25 aggregati. Facciamo attività per la comunità, questo è il spirito nostro.